Ciao, sono Dalila, direttrice risorse umane di Very Sure Italia. Sono molto orgogliosa di ricoprire questo ruolo in Very Sure Italia perché insieme al mio team e ai vari responsabili all'interno dell'azienda ci prendiamo cura delle persone. In Very Sure diciamo che le persone sono la chiave del nostro successo e pensiamo veramente che per proteggere al meglio i nostri clienti sia importantissimo il lavoro straordinario di ognuno di noi ed è nostra responsabilità valorizzare questo lavoro ogni giorno. Oggi siamo circa 20.000 persone in tutto il mondo e 1.800 persone sono soltanto in Italia, tra lavoratori dipendenti e collaboratori della struttura commerciale. Abbiamo raggiunto questo numero in circa 8 anni di lavoro e puntiamo a raddoppiare il numero dei lavoratori entro il 2025. In Very Sure le persone sono al centro ed è il nostro obiettivo quello di valorizzare le loro competenze. Proprio per questo noi lavoriamo ogni giorno per costruire dei programmi di formazione e sviluppo dedicati a ogni singola figura professionale. Dal 2020 abbiamo avviato in azienda un progetto di smart working e telelavoro e nel 2021 abbiamo esteso questo progetto anche al nostro customer service estendendolo alle regioni del sud, per cui da quest'anno circa 10 colleghi residenti nelle regioni del sud hanno iniziato questa nuova modalità di lavoro. Contiamo di lavorare ancora su questo progetto e di raddoppiare i numeri per il prossimo anno. Quindi il nostro obiettivo oltre a portare sicurezza è quello di portare lavoro in tutta Italia. Due pilastri fondamentali della nostra strategia sono la diversità e l'inclusione. È importantissimo per noi puntare sulle pari opportunità. Sono orgogliosa di poter dire che le donne rappresentano il 45% dei nostri colleghi e che il 52% delle posizioni manageriali in azienda è ricoperto da donne. Lavorare in Berishur per noi significa passione e impegno, ma anche consapevolezza del ruolo e della responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri clienti. Siamo persone che proteggono persone.